Patrice, chiamala un po', un momentino poi viene Chi è? Chi è? Chiamala un po' forte a vedere se sente Chiamala forte, forte, forte Chiamala Patrice, chiamala Patrice Va a vedere se c'è Vieni qui Marco, vieni qui con noi che te giochi, vieni con la sabbia, le pietre, le metti sopra il paperino lì Ma non l'ha capito, non è rimasta lì l'ha letto, dico, non l'ha portata a casa Che fai adesso? Ma stai chiamando? Inquadra bene, ma questa che è una roba professionale, il semi Semi, che cosa vuoi dire semi? Che puoi fare qualunque ripresa Come obiettivo c'è un mezzo pollice Beh vado nel tuo, mezzo pollice del mio Cioè, tre quarti questo Va del tuo? Va del mio no eh